Diamo il benvenuto, è la prima volta che viene negli studi di Temporadio o quantomeno in veste di presidente della Proloco di Carpenedolo, un nuovo presidente della Proloco di Carpenedolo a Ettore Bosio. Benvenuto Presidente. Buongiorno, grazie all'invito. Noi ovviamente invitiamo, sa cosa, soprattutto gli ascoltatori a interagire, quindi possono mandare sms, messaggi whatsapp al 348-318-339, possono telefonarci, 0376-63-1709, possono seguirci tramite Facebook, diretta streaming su Facebook e su YouTube, Temporadio Live, la pagina Facebook, cioè YouTube, come andare a cercare su YouTube, e invece il gazzettino nuovo Temporadio per cercarci su Facebook. Allora, dunque cominciamo col parlare, insomma, presidente, io do la parola a lei, a lei presidente, facciamo così, esordisca come preferisce. Ma io ho 65 anni e sono pensionato e da qualche anno, anche dal precedente consiglio di amministrazione, cui facevo parte, con il presidente Angelo Marzocchi. Vorrei prendere anche l'occasione per ringraziare tutti i precedenti presidenti, partendo da Mario Ferrari, che nel 2005 ancora, perciò sono 15 anni che la prologo di Carpenedo lo esiste, poi per proseguire con Marta Vinaschi, Angelo Marzocchi, attualmente dalle ultime elezioni sono io il presidente. Presidente che si è preso questo incarico appoggiato da un bel gruppo di persone. Siamo rimasti in due del vecchio del presidente consiglio e sette nuove persone hanno aderito al nostro invito e si vogliono mettere a disposizione della comunità di Carpenedo, logicamente con il tempo che possono dedicare a questa attività. Devo dire che le attività sono sempre state parecchie. La prologo si è messa abbastanza in luce in questi 15 anni, con varie attività, sia istituzionali che di varie mostre, fiere, gite. Quest'anno purtroppo, con la pandemia, abbiamo dovuto annullare parecchie nostre manifestazioni. Molte si sono dovute, del resto, insomma ragazzi, la situazione è questa. Eh sì, perché le limitazioni che ci sono non ci permettono di svolgere le varie attività. Per esempio, non abbiamo potuto fare la festa della birra, che era ormai la quarta edizione, che aveva un buon afflusso di pubblico. Però, logicamente, con i distanziamenti non possiamo permetterci di prendere dei rischi sia per i volontari, sia per gli ospiti, i visitatori stessi. Certamente, per cui appunto dei provvedimenti sono stati presi, non c'è niente da fare. Quindi, mi correga se sbaglio, da quello che ho capito, però, quelle a cui mi riferisco sono voci di corridoio, diciamo, ma per cui appunto mi correga se sbaglio. Il fatto che ci siano sette nuovi e due del vecchio direttivo, questo non vuol dire che c'è stata una rivoluzione all'interno. Ma, diciamo che quelli del direttivo ci sono ancora all'interno da Proloco, semplicemente non hanno più voluto fare parte del direttivo, perché uno ha anche una famiglia, ha il lavoro, ha i figli, ha i genitori anziani, ha quello che è, ha le sue cose da fare. Siccome il direttivo è un impegno ulteriore, mi correga se sbaglio, è così? No, no, è così e difatti non è che abbiano abbandonato i vecchi consiglieri, la loro attività all'interno. Hanno cambiato ruolo, cioè rimangono come volontari e ci daranno sicuramente il loro appoggio e il loro aiuto, perché non possiamo, dico, fare a meno dei volontari, è la base, perché il Consiglio, ok, prende le direttive, dà delle direttive, però dopo è al momento dell'attuazione delle proposte varie che serve personale, che si mette a disposizione e dedica il proprio tempo, chi 100, chi 10, chi 20, però quello che può e è sempre ben accetto. Ecco, lei Presidente ha detto giustamente, volontari, questo ribadiamolo, cioè si tratta di volontari, non avete uno stipendio, per cui appunto è proprio per questo che chi appunto è stato, oltre a fare il volontario, quindi ad agire anche materialmente sul posto, ha anche dovuto andare a riunioni con il direttivo, allora facciamo questo, facciamo quell'altro, hai chiamato il teleufficio, sì l'ho chiamato, cosa ti hanno risposto? Cioè, tutti questi discorsi in più che bisogna fare rispetto a un volontario semplice, diciamo così, quindi ad un certo punto hanno detto, beh... Sì, perché l'impegno è abbastanza pesante, diciamo, perché organizzare una manifestazione, una fiera di San Bartolomeo, una fiera del Torrone, non è che siano i due o tre giorni della manifestazione, partiamo parecchi mesi prima per organizzare, perché sono vari gli aspetti da seguire, dalla logistica, dall'inogastronomia, e così dicendo, anche rispondere al telefono, prendere, dici, dare informazioni, perché noi... Quello che vi muove è proprio l'amore nei confronti del vostro paese, perché altrimenti uno dice, ma chi me lo fa fare? Beh, logicamente, e essendo volontari... Lei ama Carpenedolo, quindi? Io sono nato a Carpenedolo, ho sempre vissuto a Carpenedolo, perciò non posso stare lontano dal paese. Dal paese, certo. Poi dopo le leggerò anche, le stanno arrivando i messaggi, ma questi li leggo nella seconda parte, eh? Allora, facciamo una cosa anche. Com'è andata la manifestazione che avete tenuto, che non mi ricordo come si chiamasse, ce l'aveva raccontato il suo predecessore Angelo Marzocchi, mi perdoni, ma non mi ricordo, comunque i nonni raccontavano, eh? Beh, sì, noi come Proloco, vedendo appunto che non potevamo, dico, attuare le nostre classiche manifestazioni, abbiamo pensato durante la pandemia di isolamento, abbiamo pensato di proporre ai ragazzi, a mezzo anche degli istituti scolastici, che si facessero raccontare dai nonni la loro gioventù, le loro avventure, qualsiasi cosa, e siamo riusciti ad avere una buona risposta da parte dei ragazzi, e non solo, e abbiamo avuto, abbiamo raccolto 66 racconti, che sono poi stati, dico, abbiamo creato un volumetto che verrà distribuito durante la fiera di San Bartolomeo, è un libretto, è un volumetto gratuito, e verrà dato sia ai ragazzi che hanno partecipato a questa iniziativa, che sia a tutte le famiglie, che tutte le persone che ce lo chiederanno. Quando avevo la tua età io, questo era il nome? Sì, quando avevo la tua età io, è il nome che abbiamo dato questa raccolta di racconti, alcuni commoventi, altri più leggeri, però che raccontano la vita proprio dei nostri nonni, o dei genitori, raccontata ai propri nipoti o ai propri figli. Lo raccontava, per esempio, negli anni Ottanta, mi pare che fosse, quando ci fu comunque la tournée Dalla Morandi, no, appunto, c'è un passo di una canzone, vita, e dice, appunto, e rendersi conto di come il ragazzo di oggi, l'anziano di oggi sia stato il ragazzo di ieri. Quindi forse questi ragazzi giovani carpenidolesi, giovanissimi carpenidolesi, hanno scoperto che il loro nonno, poi alla fin fine, quando aveva la loro età, era molto simile a loro. Sì, si divertivano anche loro, e loro dico con quello che hanno messo. I nonni hanno messo qualche sciocchezza che hanno fatto anche loro, perché comunque... Ma come i giovani, non possiamo... Io ero bravo, io non ho mai sentito un nonno che ha detto, guarda, io a scuola ero un somaro, tutti erano bravissimi sempre. Eh beh, certo, tutti siamo bravi, siamo i migliori degli altri. No, e quello che ci ha spinto anche a proporre questo volumetto è anche perché, con l'effetto appunto della pandemia, abbiamo avuto parecchi decessi, cioè non volevamo che la storia, i ricordi o che andassero persi. Questo è importante perché anche un ragazzo deve conoscere il passato per poter prendere spunto anche per quello che vorrà fare in futuro. È importantissimo, non possiamo dimenticare quello che abbiamo trovato noi quando eravamo giovani, quello che ci hanno lasciato i nostri genitori, i nostri nonni. Certo, no, giustamente, giustamente anche perché cancellare la storia di una popolazione è cancellarne l'identità, quindi sì, è stato santo quello che dice, assolutamente. E poi andando innanzi, comunque la vita continua, adesso c'è l'estate carpenidolese, ovviamente con sempre in pieno rispetto delle norme anti-covid, eccetera, che il culmine poi è la fiera di San Bartolomeo. Sì, ormai dico l'estate carpenidolese, volge al termine, abbiamo avuto un calendario fitto di iniziative, sia presso il parco Orti, rivolto ai ragazzi delle medie e delle elementari, sia anche eventi culturali per le persone di una certa età, per chi voleva, con proposte di film, spettacoli di compagnie teatrali e le due accademie della Vivaldi e della Casnici che hanno proposto dei loro, dico, piccoli, perché erano limitate purtroppo a 50 persone presenti e solo su prenotazione. Abbiamo avuto un buon riscontro, non possiamo lamentarci e adesso passeremo poi, almeno, siamo in dirittura d'arrivo alla fiera di San Bartolomeo che abbiamo cercato di dislocare anche, non solo al parco Orti, ma anche nella nostra cittadina e partiremo domenica 23 agosto dove ci sarà in Piazza Europa, la nuova piazza del municipio, l'estemporanea Carpenidro in Arte dove avremo una decina di artisti che si dislocheranno poi nelle vie, nelle piazze del paese per produrre immagini del nostro paese stesso. Avremo poi delle visite guidate in collaborazione con la Cronos dove appunto in piccoli gruppetti di 20-25 persone con l'utilizzo di audio guide in modo che ci sia un distanziamento tra l'uno e l'altro e visiteremo delle piazze e dei monumenti di Carpenidro sempre rivolti alla tematica San Bartolomeo. Perciò appunto ci sarà un gruppetto che quattro volte al giorno sia la domenica che il lunedì accompagneranno i visitatori presso questi nostri luoghi. Giustamente anche perché è giusto sapere a proposito di storia perché il patrono è San Bartolomeo e non è un altro santo ce ne sono tanti. Saremo e dico appunto con il gruppo Cronos l'associazione culturale Cronos che ci spiegherà appunto con anche delle piccole rappresentazioni che ci faranno capire perché appunto Carpenidro ha dedicato San Bartolomeo e c'è il patrono e chi era San Bartolomeo. Perché è diventato santo? Poi ci sarà sempre la domenica abbiamo pensato anche ai ragazzi perciò alle 16 alle 18 avremo i burattini su un tensostruttura presso il parco Orti alle 17 avremo l'inaugurazione ufficiale con le autorità e la nostra banda e alle 19 e 30 faremo una perché non potevamo perché Sagra di San Bartolomeo Festa di San Bartolomeo e Sagra del Malfatto sì non potevamo abbandonare del tutto questo nostro prodotto Deco abbiamo pensato sempre nel rispetto delle distanze di fare una degustazione gratuita e sarà anche questa supernotazione che verrà daremo in pratica dei coupon all'ingresso della fiera sì 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 benissimo degustazione adesso ce lo spiegherà nel dettaglio magari fermiamoci soltanto un attimo con Ettore Bosio che è il nuovo presidente della Proloquo di Carpenedro ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte in compagnia di Ettore Bosio che è il nuovo presidente della Proloquo di Carpenedro questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli Ascoltatori c'è un messaggio che adesso le leggo che è arrivato sul sito prima devo chiedere Venia ho commesso un errore la canzone vabbè era Chiedi Chiedi Noi Beatles è quella che le ho citate ma comunque fa lo stesso insomma c'è veramente questa frase per quanto riguarda il messaggio sul sito arriva dal suo predecessore Angelo Marzocchi il quale dice grande Ettore farai un grande lavoro e avrai un grande successo quindi sicuramente questo è un qualche cosa che ovviamente nel quale guardi lo leggo con precisione proprio quello che è dice grande Ettore un grosso in bocca al lupo a te e a tutti i consiglieri i volontari vedrai che tanta fatica sarà ricompensata quindi devo dire grazie a Angelo per quello che ha fatto in questi ultimi anni perché ha dedicato veramente tantissimo tempo che aveva a disposizione certo per cui in tutti i campi allora lei stava dicendo all'ingresso darete un coupon col quale si può iscriversi alla degustazione gratuita sì saranno circa da 200 a 250 porzioni che offriremo ai presenti tra l'altro per chi non l'avesse mai mangiato per chi non fosse di Carpenedo non fosse la zona ci ascoltasse da altre zone la zona per esempio non so del Capunselli assaggiati i malfatti che sono squisiti veramente sono veramente buoni proprio per cui sì vanno vanno gustati vanno gustati assolutamente assolutamente le leggo i messaggi Presidente allora ciao Ettore dopo il megalavoro di Angelo devi dimostrarti l'altezza ma vedrai che ci riuscirai un saluto anche ad Angelo Marzocchi che arriva insomma di conseguenza quindi poco mi assicuro poi Presidente ho voglia di mangiare il malfatto per la fiera si può spero di sì Anna Rita di Pozzolengo ecco a vedere Pozzolengo per esempio ci saranno le 250 porzioni gratuite poi pensiamo anche di poter mettere in vendita delle porzioni da asporto in modo che uno il giorno dopo che è a casa può gustarsi comodamente il malfatto dei co però mi scusi mi fate anche magari una piccola ricettina insomma perché ti fosse straniero per dire sì sì abbiamo già pronto i Deppli anche pubblicizzano con la ricetta questo prodotto infatti allora bella l'idea del libro racconti dei ragazzi dei ragazzi dei nonni sono i nonni che ne hanno raccontato i ragazzi grazie comunque sia perché ha coinvolto sia i nonni che i genitori quindi appunto questo quando avevo la tua età quando io avevo la tua età quando io avevo la tua età quindi appunto Bosio complimenti per la carica adesso non si dimentichi dei suggerimenti del grande Marzocchi che possono tornare utili dice Giorgio appare che sa che Angelo Marzocchi ha detto chi avesse bisogno di consigli eccetera io sono sempre un numero lo avete come dicevo Angelo non ha più il ruolo di presidente ma è sempre un volontario della parrocco e vedo sì sì rimane volontario vedo che anche in questi passaggi di consegne diciamo mi sta dando veramente una grande mano per cui benissimo non mi preoccupo per quello Marzocchi è stato un grande però io penso che lei sia migliore addirittura ancora dice Roberto di Montichiari quindi un saluto grazie allora Bosio dobbiamo andare alla grande anche contro il covid con i dovuti accorgimenti sì è ovvio perché sì di fatti anche adesso per in occasione appunto di queste due giornate presso il parco Orti o presso le vie del paese dovremo appunto far rispettare tutte le regole covid lo ripeteremo anche con messaggi audio durante la stessa manifestazione ci sarà il controllo della temperatura all'inizio la sanificazione delle mani ci saranno varie cartellonistiche all'interno che ci ricordano l'uso delle mascherine purtroppo quest'anno dobbiamo accettare queste condizioni tra l'altro quando si abbasseranno che tra un po' già sta succedendo noi non ci facciamo caso ma si abbassa la temperatura il rischio aumenta per cui insomma ecco allora Ettore Bosio uguale malfatto nel senso malfatto quello che si mangia non che forse si riferisce al fatto io ero già facevo la maschera rappresentativa del malfatto nel 2014 quando abbiamo proposto come prodotto d'eco Angelo mi aveva chiesto se volevo fare la maschera caratteristica come era condito io l'ho condito era un un vestito contadino diciamo con una cioè era una maschera allegorica anche certo era per richiamare l'attenzione sul prodotto no perché tra l'altro raccontiamo anche che a Carpenedolo voi proprio voi della Proloco avete in questi anni sviluppato il malfatto fritto il malfatto dolce il malfatto cioè avete fatto una varietà una variante del malfatto che anziché buttarlo in acqua viene rimpastellato e viene poi buttato in olio e come stuzzichino come aperitivo è veramente ottimo è buono è buono devo dire che è stato molto apprezzato anche quando siamo andati a Roma alla prova del cuoco dall'Antonella Clerici che vi ha propri gustati siamo stati poi anche altre trasmissioni televisive devo dire che il lavoro svolto dei precedenti consigli è stato molto apprezzato molto apprezzato ora il programma le chiedono si cambia o si mantiene il programma da Proloco dobbiamo vedere appunto tutto è vincolato dico da questo coronavirus perché avevamo già programmato anche una gita in Veneto nelle ville venete qua in ottobre purtroppo non sappiamo se riusciremo a metterla in atto perché con le limitazioni che ci sono sui trasporti purtroppo siamo molto limitati speriamo di fare di ritornare anche se in modo ridotto anche a sapori d'autunno in novembre e logicamente cerchiamo di fare la fiera del torrone cioè la tradizionale del 8 di dicembre ma ville venete dove? dalle parti di Mira Lanza da quelle parti lì no siamo proprio vicenza ville venete ville venete ah ok allora ora il programma no questo glielo ho appena letto mi perdoni allora altro messaggio mi raccomando San Bartolomeo cerchiamo di tenerlo alto speriamo proprio diciamo addirittura d'arrivo di poterlo realizzare speriamo che anche il tempo sia favorevole a noi perché poi vi leggerò anche io anche dico la seconda giornata il programma della seconda giornata che è abbastanza non dico corposo però con le limitazioni che ci sono cerchiamo di riempire il pomeriggio la sera poi altro messaggio mercanti principianti e lo svuota baule devono essere mantenute sicuramente sempre ovviamente con vediamo appunto se abbinandolo adesso in novembre con la manifestazione sapori d'autunno riusciremo anche a proporre anche lo svuota baule perché vediamo che è molto richiesto certo per collaborare come si fa? questo è un aspirante volontario probabilmente come si fa Presidente? noi siamo sempre in sede il mercoledì e il sabato dalle nove alle dodici comunque può sempre mettersi in contatto con qualsiasi membro del Consiglio e dalla propria disponibilità e dopo noi di norma quando c'è una qualche manifestazione mandiamo degli avvisi sul gruppo dei volontari e vediamo chi si rende disponibile per quella specifica attività poi noi cambiamo il Presidente della Proloquo ma non cambiamo il successo delle manifestazioni perché siamo troppo bravi viva Carpenedolo quindi salutiamo Carpenedolo appunto poi ancora grande Bose complimenti per la nomina dice Luigi di Castiglione e poi Bose complimenti si farà ancora la Fiera del Torrone l'ha appena detto ce l'auguriamo esatto l'aveva appena detto bisogna insomma si cercherà anche perché devo dire che già in questi giorni abbiamo avuto richieste da parte di alcuni stendisti se appunto faremo questa manifestazione che appunto è bellissima perché è un racconto il Torrone è un dolce che c'è in tutta Italia noi conosciamo quello che è monese quello di Carpenedolo eccetera eccetera ma ogni zona d'Italia ha il suo Torrone e proprio Carpenedolo diventa una capitale praticamente l'Italia proprio del dolce abbiamo avuto Toroni del Sud siciliani sardi cioè qualsiasi località piemontesi ecco l'alternativa è molto ampia poi c'è Ettore un saluto anche a Marzocchi un altro gli abbiamo mandati i saluti a Angelo Marzocchi dunque Presidente visto che siamo in dirittura d'arrivo io vorrei allora ricordare tanto per cominciare abbiamo detto la Fiera di San Bartolomeo si fa ma non abbiamo detto il 23 e il 24 l'agosto ecco 23 e 24 l'agosto domenica e lunedì prossimo benissimo c'è la seconda parte la seconda giornata anche anche per finire la prima giornata alla sera ci sarà una cover band e di questo devo ringraziare il signor Comini che ci ha offerto questo evento anche qua purtroppo dobbiamo dire che ci saranno circa 230 posti disponibili su prenotazione non possiamo fare nient'altro la fiera poi prosegue il lunedì dove nel pomeriggio avremo la fattoria didattica Zappaglia che ci porterà per i nostri bambini i nostri ragazzi alcuni animali e dei laboratori dove faranno vedere la macina del grano la raccolta delle foglie e così via c'è una fattoria didattica dove avremo gruppi di 7-10 ragazzi al massimo che verranno seguiti di volta in volta alle 19-30 poi avremo ancora la degustazione del malfatto per il secondo giorno alle ore 20 ci sarà la premiazione della Carpenedolo in arte cioè le estemporanee pittura fatte alla domenica poi l'amministrazione comunale propone dico Carpenedolo produce le premiazioni per le varie attività produttive di Carpenedolo e alle 21 avremo lo spettacolo le mondine anche qua è un è solo canoro non possiamo permetterci balli o altro e avremo sempre la disponibilità di 230 posti circa benissimo quindi durante l'intervallo di questo spettacolo alle ore 22 e 15 circa ci saranno i fuochi d'artificio benissimo che per evitare sembramenti abbiamo proposto una nuova location lo faremo dal nostro Monte Rocchetta dal Monte della Torre in modo che è visibile da tutto il paese allora bravo presidente si è andato bene le scrivono le vorrei chiedere però prima di chiudere l'inaugurazione però ufficiale della fiera quando si fa i due facciamo domenica 23 alle ore 17 presso l'ingresso del parco Orti benissimo allora siamo in chiusura noi ringraziamo tantissimo il nuovo presidente della Proloco di Carpenedolo Ettore Bose grazie grazie a voi grazie ora esatta sono le di grazie a voi